Posizioni Acido Pilastro Tangente Padrino Sequestro Galera Minacce Lobby Pentito Tritolo Picciotto Cunutu Cunutu Superboss Ok Picciotti, ora lo dobbiamo fare meglio! Ricordatevi che si parte sempre da Lupara! Fate attenzione alla differenza tra pizzo e tangente e nel finale due volte Cunutu! Fatelo bene o vi gambizzo! Mafia Giure! Grazie a tutti Grazie a tutti Sì Grazie a tutti Grazie a tutti.